a livello economico l'italia è cresciuto più di altri paesi abbiamo visto questi numeri incredibili e come secondo te tuo parere da giornalista da uomo da cittadino insomma come si confronta questo questo fatto con la realtà che percepiamo perché poi probabilmente molto spesso è percezione c'è la gente che fa fatica arrivare alla fine del mese c'è un'inflazione ancora elevata e tassi interesse ecco leggiamo questa fotografia soprattutto queste sono chiacchiere sono lamentele ricorrenti ma in gran parte sono sono sciocchezze non riesco a capire perché la gente oggi debba morire di fame io ricordo che prima che fosse introdotto il reddito di cittadinanza in italia nessuno moriva di fame non si registravano morti per inedia a maggior ragione adesso che diciamo per un periodo c'è stato e poi è stato sospeso non mi sembra che ne si registrino delle morti improvvise dovuta al cattivo nutrimento questo non è vero semplicemente c'è un conformismo è anche diciamo lessicale che ci porta a lagnarci sempre e per tutto ma senza diciamo poggiare i nostri ragionamenti su degli argomenti seri e questo questa è la mia opinione